Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Soleil Sorge è nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles, California, Stati Uniti, dall'insegnante di yoga americana Wendy Kee e dall'imprenditore italiano Paolo Sorge. Dall'età di tre anni, dopo la separazione dei genitori, trascorre l'infanzia e l'adolescenza travezzano, in Abruzzo e Los Angeles. Dopo aver fatto il suo esordio nello studio del noto dating show, la Sorge ha preso parte a tutta una serie di reality. In passato ha partecipato ad una fortunata edizione di Pechino Express con la madre Wendy. Successivamente è stata una naufraga dell'isola dei famosi ed infine si è messa in gioco al GFV. Il noto reality di casa Mediaset è stato per lei quello della svolta a livello lavorativo. Alcune settimane fa sono arrivate diverse segnalazioni sui possibili futuri nuovi conduttori del GFV Party. Se Soleil sembrava essere già fuori dai giochi, Pretelli sembrava destinato ad una conferma. A quanto pare invece, e stando all'ultima indiscrezione lanciata da Medeo Venza, entrambi a settembre non prenderanno parte a questo appuntamento ormai consueto per il pubblico del noto reality. Gli autori sarebbero quindi a lavoro per cercare non una sola conduttrice, ma ben due nuovi padroni di casa. In tal senso alcune settimane, fa proprio l'ex Geffino Alberto De Pisi, sembrava essere in cima alla lista del conduttore. Adesso a questo nome va ad aggiungersi quello di Oriana Marzoli di recente proprio a cena, con l'ex compagno di avventura e signorini. Una storia quindi destinata a regalare ancora colpi di scena, fino al prossimo mese di settembre.